Siamo alle solite, ormai lo abbiamo capito. Il governo farà di tutto per massacrare la nostra economia. Se dopo il lockdown di marzo, aprile, maggio qualche commerciante, qualche artigiano, qualche piccolo imprenditore aveva cercato di resistere, ebbene ora è probabile che gli arrivi la mazzata finale e che quindi debba chiudere. Naturalmente si sta cercando così di tastare il polso degli italiani, si cerca di capire fino a quando potranno tirare la corda e far perdere la pazienza anche alla popolazione più tollerante del mondo, sia agli italiani. Un nuovo lockdown generalizzato, presumiamo che non ci sarà, però qualcosa di mirato invece sì. E allora di fatto che significa questo? Significa nuove restrizioni alla libertà. Ho sentito oggi alla televisione una conduttrice di una trasmissione di politica che va in onda sulla 7. Ebbene ha posto una domanda al neogovernatore della Toscana, Gianni, una domanda che mi ha fatto rabbrevidire. Ha infatti chiesto a Gianni se lui, qualora gli fosse stata richiesta, avrebbe negato l'autorizzazione ad una manifestazione del movimento No Musk. Io penso che la conduttrice non abbia nemmeno così potuto ipotizzare la bestialità di ciò che ha detto. E se, come credo poi, le domande non le decide certo lei, ma le vengono poi preparate dalla redazione della trasmissione, lei quindi di fatto è solo lì per leggerle, ebbene la cosa è ancora più grave. Se la redazione di una trasmissione di carattere politico, che va in onda su un canale televisivo nazionale, arriva a porre una domanda del genere, ebbene qui, cari ascoltatori, dobbiamo assolutamente preoccuparci. Forse il nostro articolo 21 della Costituzione, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per caso questo articolo 21 della Costituzione forse è stato abrogato? È pazzesco. I cosiddetti mezzi di informazione di massa, che naturalmente sappiamo tutti che anziché informare disinformano in maniera palese. Ma a coloro che cercano di di diffondere la verità dei fatti, ebbene si cerca anche di impedire di manifestare le proprie opinioni. A mia memoria le limitazioni così ampie del dettato costituzionale nel nostro Paese non si erano mai manifestate in passato. Io penso che dobbiamo essere tutti molto preoccupati. In Italia c'è un allarme, ma naturalmente non è il Covid-19. È un allarme democratico. La nostra democrazia non è mai stata così in pericolo, così in bilico. L'attuale governo poi è qualcosa di abominevole, di spregevole, di indegno. Ecco, lo definirei indegno. Pensate che il ministro degli interni, ossia la persona alla quale più di ogni altra viene delegata la sicurezza del nostro Paese, la sicurezza del nostro territorio e ovviamente la nostra sicurezza personale. Ebbene, questa persona è arrivata a dire, state a sentire, se vogliamo dirla tutti i numeri non sono preoccupanti in relazione a quelli sul territorio. Non è che il Covid lo portano i migranti. È pazzesco. Ma non basta. Sentite poi ancora cosa aggiunge. In Sicilia abbiamo mandato i militari non per il Covid, ma perché gli arrivi erano tanti per i controlli necessari. Capite, per i controlli. Come dire, venite pure da tutto il mondo, che questa è terra di tutti. Non preoccupatevi, cari clandestini, al massimo, proprio al massimo vi faremo un controllo. Ripeto, questa è quella che ci deve difendere, quella dalla quale dipende la sicurezza del nostro Paese. Non so se vi rendete conto nelle mani di chi siamo. E poi fra i 57 migranti sbarcati nella notte tra sabato e domenica a Rocella Ionica, 21 sono risultati positivi al Covid-19 e fra di loro anche qualche minore. Cioè, poi intanto gli hot spot sono al collasso. I clandestini, e sono gli stessi media di regime che ce lo dicono tranquillamente, scappano da questi centri di identificazione. E poi, a dire la verità, non scappano neanche. Nella realtà, per essere precisi, non scappano, semplicemente se ne vanno. Perché gli hot spot non sono centri di detenzione dai quali fuggire, sono così centri di controllo nei quali le persone possono tranquillamente andarsene. E naturalmente questi clandestini se ne vanno. Se ne vanno e si distribuiscono così su tutto il nostro territorio nazionale. Ovviamente molti di loro sono positivi e se ne vanno tranquillamente in giro, pur naturalmente non essendo in possesso dei cosiddetti celebri dispositivi di protezione individuale. Solo per fare un esempio, ma ripeto, gli esempi sarebbero decine. Ebbene, ricordo che alla fine di luglio 500 migranti clandestini se ne sono andati dalla struttura di Porto Empedocle. Qualcuno sa dove sono finiti. No, ma certamente, però sono ancora tra di noi. Visto che gli altri paesi, quelli con noi confinanti, naturalmente hanno blindato le loro frontiere. E questa è l'Italia di oggi. L'Italia che sottomette i suoi cittadini, persone perbene che chiedono solo di poter lavorare per sfamare i propri figli. Ed invece l'Italia di oggi permette ai clandestini di fare il bello e il cattivo tempo sul nostro territorio. Sul territorio che i nostri nonni ci hanno lasciato in eredità dopo aver combattuto per renderlo uno Stato sovrano. Capite, cari ascoltatori, a che livello siamo scesi. Siamo scese ad un punto per cui il termine sovranità è diventato una specie di parolaccia, una bestemmia, un qualcosa da combattere. I nemici sono i sovranisti. Abbiamo superato il paradosso, qua siamo all'assurdo, al più totale assurdo. Ora, quanto tempo dovrà passare prima che si torni ad essere perlomeno un paese normale? Purtroppo dare una risposta a questa domanda è davvero difficile. Perché vedete, i politici possiamo anche farli uscire dal Parlamento attraverso il voto, insomma. Ma tutte le nostre amministrazioni sono impregnate di questa gente che l'Italia la vuol vendere e la vuol vendere per un tozzo di pane. L'Italia, capite, il paese più bello del mondo, è in svendita. E con questo governo siamo davvero un paese allo sbando, un paese sul quale ognuno può sbarcare per poi fare i propri porci comodi. Ovviamente ora dobbiamo porci degli obiettivi importanti, direi vitali, proprio per rimanere in vita e per tornare ad essere un paese normale. Quindi è assolutamente necessario riprenderci la sovranità. La sovranità monetaria, ossia abbandonare l'euro e tornare ad avere una nostra moneta. E la sovranità nazionale, ossia abbandonare l'Unione Europea e tornare ad essere uno Stato indipendente. Voglio infatti concludere questo video odierno citando le parole con le quali la deputata europea del Regno Unito, Belinda De Lussi, ha voluto salutare i colleghi eurodeputati nell'ultima seduta, alla quale appunto avevano partecipato i parlamentari britannici dopo la Brexit. Ecco le sue parole. La Brexit non è stata un rifiuto dell'Europa o dei nostri meravigliosi amici europei. È stata un rifiuto della natura antidemocratica delle istituzioni dell'Unione Europea. Grazie.